bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda gli ultimi giorni di fortnite ma anche qualche nuovo leaks sul capolavoro perché io dico che è un capolavoro di genialità il nuovo giochino che sta spopolando e che stiamo giocando anche nei su twitch un po di leaks anche su fall guys prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento veramente importante in poche parole la notizia ufficiale di epi games per chi ha guardato le a parte in alto a destra delle news in game avrà trovato sicuramente il messaggio che vi invitava a completare tutte le challenge per poter arrivare all'ultima customizzazione del nostro custom ombrello questo vuol dire che il 27 agosto sarà il giorno finale della season 3 ufficialmente non ci saranno di lei quindi nessun ritardo per l'arrivo della season 4 l'hype sale è ancora un po' presto ma l'hype sta salendo piano piano ragazzi oltre a completare il custom ombrello preparatevi alla nuova season andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché avete presente questa immagine che vi sto facendo vedere dai tutti quelli che hanno vissuto i mesi precedenti di fortnite ricorderanno sicuramente come il razzo dalla season 4 fino poi anche alla season 9 se non ricordo male è stato un punto fondamentale degli eventi di quelle determinate season ve lo mostro perché ieri pomeriggio c'è stata una modifica nei file di gioco e sono state aggiornate queste queste che cosa sono si chiamano mesh quindi sono delle porzioni sono delle sezioni della rocket che appunto hanno ricevuto un aggiornamento il che ci fa ben sperare che potrebbe esserci un ritorno del rocket già ne avevamo parlato anche perché presto in cielo arriveranno due grandissimi rift che si congiungeranno come siamo stati abituati già a vedere l'anno scorso e potrebbe veramente essere corretto il ritorno del rocket perché per chi si fosse dimenticato è partito ed è sparito nel cielo quindi ragazzi tanta tanta roba il che potrebbe anche anticipare la come si dice il background della prossima season che potrebbe essere a tema spaziale ma andiamo avanti a parlare di un altro argomento e mi voglio un attimo soffermare sui veicoli perché sono ancora al centro di grandi dibattiti e c'è chi pensa siano troppi c'è a chi piacciono c'è a chi non piacciono ma non andavano messi ma andavano messi fighi per muoversi ma un po troppo esagerati ed effettivamente ci sono dei bug anche che vanno assolutamente fissati ci sono dei punti nella mappa che se vengono presi con un veicolo causano la morte istantanea del personaggio voglio farvi vedere due spezzoni video questo è il primo ragazzi come vedete siamo a brughiere c'è questo giocatore che sta recuperando tranquillamente del loot viene chiamato dal suo compagno di squadra per andare in safe salgono entrambi sul taxi e se con il taxi prendete questo palo di brughiere non questo ma quello che sta per arrivare sbam è causata la morte immediata di entrambi i personaggi rivediamo velocemente la scena perché è follia pura ragazzi primo bug non si può vedere assolutamente solo quel palo della luce e non è l'unico come vedete invece qua siamo a lago languido se venite a contatto con questa parte della del muretto e della mappa vicino la casa gialla anche qui si bagga tutto e venite eliminati direttamente quindi ragazzi ancora qualcosa da sistemare sui veicoli attenzione a come guidate e staremo a vedere che ruolo avranno nella prossima season andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questi sono di nuovo dei delle porzioni di codice che ci fanno vedere come sia stato disabilitata come sia stata disabilitata la possibilità di ricaricare i v bucks in quantità controllata mi spiego meglio c'era questa funzionalità che c'era qua in italia appunto se voi volevate shoppare una skin da 1200 v bucks ma ne avevate solo 900 non dovevate per forza andare a shoppare il pack da 999 che ve ne ricaricava 1000 ma potevate andare a comprarne solamente 300 è stata una cosa che effettivamente non è mai esplosa a livello mondiale infatti noi italiani siamo stati i tester di questa nuova funzionalità che sembra essere disabilitata quindi non è più possibile fare il ricarico dei v bucks non sappiamo neanche se sarà più possibile farlo in futuro e quindi saremo costretti a dosare correttamente i v bucks o altrimenti dovremmo comprare i pacchetti che siamo abituati a vedere nel negozio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle notizie per quanto riguarda l'ultima serie di ltm della summer splash che andrà quindi a chiudere tutto il grande palinsesto della summer splash dove abbiamo visto skin e dove abbiamo visto nuove ltm in queste ore era presente la knockout casuale ma abbiamo anche le prossime che stanno per arrivare la knockout shuffle in squadra la knockout higher raid sempre in squadra la rags to reach in duo e in squad nuove modalità ltm che potrete giocare appunto tranquillamente con i vostri amici e che verranno ruotate fino al 27 agosto quindi ultimi giorni per poterle provare e diamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché l'ultimo argomento di fortnite di questo video c'è un aggiornamento nel pack di batman non abbiamo ancora capito bene perché è stato aggiornato perché non ci sono in realtà modifiche fisiche alla skin ma quando arrivano degli aggiornamenti diciamo che potrebbe esserci la possibilità di rivederlo in game molto molto presto so che molti di voi mi chiedono ogni tanto ma batman esce di nuovo il pack esce di nuovo posso dirvi non lo so ma ci sono forti probabilità di rivederlo nello shop per adesso è super esclusivo perché è rimasto per pochi giorni qualche mese fa nel negozio a me piace personalmente tantissimo come skin è fatto veramente bene incrociamo le dita e stiamo a vedere andiamo a parlare adesso di full guys ragazzi perché ci sono anche lì delle notizie il primo è la prima news di oggi è direttamente un tweet ufficiale dalla loro pagina che dice we just me ve la dico direttamente in italiano noi abbiamo dovuto preparare un fix di alcuni bug dell'ultimo minuto prima di poter rilasciare la pace vi ricordo ragazzi che oggi è ufficialmente il giorno in cui arriverà il primo aggiornamento di fall guys che introdurrà una serie di novità davvero incredibile parliamo di nuovi livelli parliamo di nuove skin parliamo di challenge giornaliere che ci permetteranno di guadagnare dei kudos extra compiendo determinate azioni me ne viene in mente qualcuna arrivare nella top 10 per tre volte ci darà mille kudos completare dieci round ci darà mille kudos e altre tre o quattro challenge che sono state inserite il bug di cui si parlava è un bug che capitava mentre si andava a contendere sapete quando protendete le mani potete fermare il vostro avversario con una combinazione di tasti mossa in maniera corretta potevate mantenere per sempre la presa e muovervi con il personaggino avversario attaccato quindi buttarlo giù fixeranno questa cosa e probabilmente fra qualche ora vedremo il primo update ma ci sono anche delle altre notizie questa è veramente interessantissima perché adesso è venuto il momento di capirci un pochettino di più e di capire meglio nel comparto tecnico ultimate guide to fame che cosa sono i fame sono i punti necessari per andare avanti nei livelli del pass battaglia vi voglio dire che ogni round che passate ovviamente vi accredita un numero di fame extra il primo round sono 15 non ne vengono assegnati al secondo round ma ne sono 10 al terzo round 10 al quarto 15 al quinto e nessuno al sesto quindi potete fare tranquillamente i vostri conti anche però ce ne sono anche però non so neanche se esiste ce ne sono anche di extra in base a come performate in ogni round quindi se voi premete prendete ad esempio la prima posizione quindi vi appare questo questo ironings quindi questa medaglietta d'oro fateci caso quando arrivate al completamento del traguardo se è gold 63 punti se diamante 45 che quindi vuol dire nella top 20 per cento nella top 50 per cento 28 e se vi qualificate sono 10 punticini purtroppo se venite eliminati non vi vengono dati mentre invece se giochiamo in team ovviamente i punti vengono assegnate in base al ranking del team stessa cosa per come vi ho fatto vedere prima gold 45 silver 45 bronzo 28 ci sono veramente tantissimi e concludiamo per quanto riguarda le modalità survival dove ci sono 28 punticini 28 ironings se prendete la medaglia d'oro ma se voi vincete il round finale prenderete la bellezza di 203 punti oltre ovviamente alla coroncina quindi un incentivo in più per andare a portarvi a casa l'ultimo round e la tanto ambita corona insomma ragazzi oggi mi sono dilungato un pochettino vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao